Open Day dedicato alla Raffa, a Borgo Manero, GS La Bociofila, la società organizzatrice, un modo per conoscere questa società, un modo per conoscere questa disciplina. Esatto, oggi in giornata, siamo partiti dalla mattina, ma siamo conclusi l'apice oggi pomeriggio con un incontro misto tra bambini, disabili e normodotati. Questo perché lo scopo di questa giornata, ma anche del progetto che abbiamo con GS La Bociofila, è un'integrazione di queste persone, di queste varie specialità della FIB in un unico essere e avere a disposizione uno spazio, che speriamo vivamente che sarà questo impianto bellissimo, di Borgo Manero, dove tutti potranno venire con qualsiasi disabilità, con qualsiasi, diciamo, spirito e qualsiasi voglia di giocare una delle varie specialità che la FIB mette a disposizione. Un impianto che volete rivalorizzare? Assolutamente, perché è già al centro di interesse per tutto il mondo disabile del Piemonte, con tantissime associazioni che vengono anche da Torino addirittura a utilizzarlo. col Comune stiamo lavorando in questo senso per ripristinare e sistemare la parte interna a livello, diciamo, di disabili, anche se è già perfettamente fruibile e la parte esterna, invece, a disposizione di tutti. Come attualmente avete visto, abbiamo i campi da bichbocce, abbiamo installato una petanca e gli altri due viali, ancora contrassegnati, ma non utilizzati, verranno dedicati al volo e alla raffa nel progetto finale che speriamo di portare a termine nel più breve tempo possibile. Jess, la bocciofila è una società storica. Sì, molto storica, perché ha 118 anni e prima qui fuori c'era un capannone, diciamo, una specie di capanno e adiacente c'erano dei giochi che si giocavano. Poi questo bocciodrome è stato fatto nel 1975, inaugurato con i campionati italiani e vinti anche da una terna nostra di Borgo Manero ed è stato molto bello. Quindi andiamo avanti, adesso c'è questo progetto e cerchiamo di portarlo avanti il più possibile, di avere un minimo di successo, ecco, cercando di non disattendere le attese della nostra Barbara che è molto simpatica e si dà da fare. Io ne sono con lei.